Rivarolo Canavese, la danza come arte per fare spettacolo. Spesso i gruppi dei corsi avanzati vengono richiesti per impreziosire grandi eventi. Così è stato anche sabato 25 ottobre per una ventina di allievi dei corsi di danza hip hop della music da TASD, associazione sportiva che si occupa della sezione danza per l'associazione liceo musicale di Rivarolo Canavese, seguiti da Riccardo Genovese. Il gruppo è stato invitato a partecipare alla serata di moda organizzata dalla Union Model Company di Torino durante la quale si è svolta la selezione valida per i concorsi internazionali di Miss Grand Prix. I ragazzi si sono lasciati coinvolgere con molto entusiasmo nell'atmosfera del grande evento presso il Centro Congressi Hotel Atlantica davanti ad una gremita platea si sono esibiti nelle loro migliori coreografie già più volte premiate in diversi concorsi nazionali e presentate anche all'annuale gala della danza di Firenze. Molto soddisfatta la direttrice Barbara Quintaba, che evidenzia sempre in queste uscite artistiche il valore della didattica per sottolineare la preparazione a 360 gradi dei propri allievi non solamente dal punto di vista tecnico ma anche da quello professionale.